Ma salve a tutti ragazzi, qui è Django che vi parla e benvenuti a questo nuovo gameplay commentary e come potete vedere siamo qui con un gameplay di Modern Warfare 3 e no, non è una MOAB, è una partita di cerchi e distruggi ho notato che ormai ultimamente tutti sembrano lamentarsi dei gameplay delle MOAB e cose simili quindi ho scelto questo gameplay di cerchi e distruggi tanto per cambiare un po' pur rimanendo sempre su Modern Warfare 3 ma andando ad introdurre il gameplay per l'appunto questa è una partita su Lockdown con un punteggio finale di 24-2 dove userò Lusas 12 Lusas 12 che posso affermare con certezza essere una delle mie armi preferite in tutto il gioco sia perché è divertente sia perché è effettivamente forte come arma specialmente in mappe come questa, mappe come Lockdown piena di edifici, di zone strette, di angoli, angoli ciechi per così dire e con questa arma è stata la possibilità di controllare un po' meglio queste zone avendo una certa potenza in corpo a corpo ovviamente bisogna evitare le zone ampie ma questa è una cosa abbastanza ovvia ma detto questo vorrei passare subito a parlare dell'argomento di oggi che è ironicamente per l'appunto cerchi e distruggi cerchi e distruggi una modalità che in genere o piace o non piace alla maggior parte delle persone con cui ho parlato io almeno per me e per i miei gusti personali è la mia modalità preferita e per diversi motivi ma prima di dirvi i motivi di ampliare un po' il discorso vorrei parlare un po' dei motivi principali per cui non piace alla gente o comunque in questo caso ai giocatori di Modern Warfare 3 in particolare la prima cosa che mi sento rispondere quando chiedo a qualcuno cosa ne pensa di cerchi e distruggi cosa ne pensa di questa modalità rispetto alle altre o perché non ci voglio giocare è che ha una modalità molto lenta, molto noiosa sotto alcuni aspetti questo secondo me non è da attribuire alla modalità di per sé in tutto e per tutto anche se in parte sì ma non solo è questo il concetto che vorrei esprimere ma soprattutto ai giocatori, all'approccio che hanno i giocatori verso questa modalità ma andiamo per gradi per prima cosa vorrei farvi notare un po' alcuni difetti che ho notato io nella modalità cerchi e distruggi come è strutturata in Modern Warfare 3 la prima cosa che ho notato sono sicuramente le mappe parlo di mappe come Dome dove un lato è sicuramente avvantaggiato rispetto all'altro un respawn è sicuramente avvantaggiato rispetto all'altro e questo porta la gente a giocare in maniera molto difensiva, molto timida per così dire ma sempre prendendo come esempio Dome vorrei prendere in considerazione la posizione degli spawn iniziali e la posizione delle bombe in Dome per chi non è familiare con cerchi e distruggi uno spawn è posizionato davanti a quella sfera di Dome nella parte bassa per così dire della mappa mentre l'altro è posizionato al lato opposto della mappa nella casa mentre le bombe sono posizionate prendendo come esempio quelli che respawnano davanti alla sfera di Dome quindi in posizione di difesa una a sinistra nel bunker e una a destra vicino a quelle parabole, quei container in uno spazio abbastanza aperto il problema principale di questa mappa è che chi respawn in una posizione di attacco quindi dentro la casa ha una grande difficoltà ad uscire a muoversi, a giocare l'obiettivo, a piazzare le bombe eccetera questo perché dalla parte difensiva con un movimento relativamente corto e piccolo c'è la possibilità di coprire tutte le uscite che poi sono soltanto due impedendo all'altra squadra di fare qualsiasi cosa ed è questo quello a cui mi riferivo prima perché sì a questo punto i giocatori prenderanno come dire un approccio molto difensivo stenderanno a camperare dentro quella casa ad aspettare che paradossalmente chi è in difesa riasci verso il loro spawn per ucciderli il problema principale qui secondo me è che non tutte le mappe vanno bene necessariamente per tutte le modalità Dome da un lato è facilissima da vincere che distruggi dall'altra è molto difficile invece mentre magari in altre modalità può essere molto divertente può essere molto adrenalinica per costruire avendo un ritmo molto veloce, una mappa piccola eccetera secondo la mia personale opinione un modo per risolvere questo problema sarebbe usare diverse mappe per diverse modalità ad esempio nel caso di Dome e scusate se prendo sempre come esempio questa ma è l'esempio più plateale che mi viene in mente quindi mi sono una più semplice per me spiegarle anche penso per voi comprendere quello che voglio dire ma dicevo usare mappe come Dome per modalità come uccisione confermata come dominio e magari usare altre mappe come Sitown per cerchi e distruggi per demolizione eccetera questo penso che porterebbe ad un diverso equilibrio un po' più di equilibrio fra le diverse mappe e le diverse modalità del gioco rendendolo un po' più piacevole per tutti un'altra cosa che secondo me potrebbe andare a risolvere questo problema dei respawn iniziali squilibrati in cerchi e distruggi sono i round alterni quindi invece di giocare 3 round per ogni lato prima di cambiare il respawn giocare un round per poi cambiare il respawn ad ogni round così via fino alla fine della partita questo risolverebbe in parte il problema secondo me non totalmente ma aiuterebbe ma al di là di tutto questo sappiamo tutti benissimo che comunque ci sarà qualcuno che si divertirà a camperare nell'angolo aspettare gli ultimi 30 secondi del round per poi andare a piazzare la bomba o cose simili una soluzione secondo me per questo per questa mania, questa voglia di camperare dentro allo spawn o in qualche angolo e cose simili si potrebbe risolvere accorciando i round attualmente è un round di cerchi e distrugge la durata massima di 2 minuti e 30 detto così sembrano pochi relativamente pochi ma in realtà dei fatti sono fin troppi secondo me sia tutto il tempo di muoversi per la mappa di piazzarsi in punti tra virgolette strategici e sia anche il tempo di andare a piazzare la bomba andare a giocare l'obiettivo se questo tempo venisse ridotto i giocatori sarebbero spinti a giocare in maniera più aggressiva essendo costretti a piazzare la bomba nel caso di chi è in attacco prima che finisca il tempo e nel caso di chi è in difesa sarebbero costretti comunque a uscire per andare a disinnescarla ci troveremmo quindi con un round più veloci con un ritmo di gioco più veloce e per questo anche più interessanti sotto alcuni aspetti ma detto questo qui stiamo arrivando alla fine di questo gameplay commentary avrete notato che ho tagliato velocizzato alcune parti del gameplay semplicemente per eliminare quelle parti possono risultare noiose per alcuni di voi magari quando corro a vuoto per la mappa senza trovare nessuno quando piazzi disinnesco bombe le killcam eccetera eccetera e non l'ho detto prima ma in questo gameplay usavo l'usas 12 con specialista quindi tutte le 24 decisioni sono di usas 12 tranne un paio che sono di mp9 ma comunque sono fatte con le armi senza elicotteri e niente del genere spero comunque che apprezzerete questo gameplay questo commentary fatemi sapere se condividete alcune delle mie opinioni oppure se avete qualcosa da ridire su quello che ho detto io fatemi sapere cosa ne pensate voi di c'è che distruggi e se avete ovviamente qualche consiglio o qualche critica scrivetelo pure nei commenti perché quelli fanno sempre bene per migliorare fa sempre bene sapere dove si sbaglia quindi può dare una mano ma comunque che dire alla prossima grazie a tutti